Ben ritrovati sul canale Silvano il pesci vendolo che cucina per una nuova ricetta La ricetta di oggi è un classico della cucina italiana e più precisamente napoletana L'impeppata di cozze, un piatto semplice ma molto apprezzato Vediamo gli ingredienti Per questa ricetta per due porzioni ci serve Un chilo di cozze più pulite possibile Uno spicchio d'aglio, olio extravergine d'oliva, un ciuffetto di prezzemolo e del pepe nero Più crostini di pane tostato Iniziamo! Innanzitutto puliamo il bisso facendo leva Eliminiamo anche le cozze rotte Con il dorso di un coltello Puliamo le impurità sulle cozze E le laviamo in acqua In una pentola con un coperchio trasparente Mettiamo un filo d'olio E rosoliamo l'aglio Versiamo le cozze nella pentola Le copriamo E attendiamo che si aprano tutte Il detto Un occhio al pesce e uno alla gatta Significa tenere d'occhio entrambe Perché il prepotente non soverchi il più debole Quando sono pronte Le spolverizziamo con prezzemolo tritato Le impiattiamo col sughetto e con il pane tostato E spolverizziamo con il pepe A piacere Ecco pronta la nostra impepata di cozze Piatto gustoso ed economico Buon appetito! Se vi è piaciuta questa ricetta Mettete un mi piace Condividete, commentate e iscrivetevi al canale E arrivederci al prossimo video!